trucco di pasticceria ragazzi attenzione se volete ottenere dei dolci meravigliosi e con quel gusto di cotto di old style quel gusto di una volta che cosa dobbiamo fare quando prendiamo il contenitore invece di imburrare e infarinare oppure oliare e infarinare per magari dolci che sono vegani o vegetariani o per gli intolleranti e lattosio e queste cose che cosa facciamo facciamo passare il nostro burro e il nostro olio nel contenitore bene lo sfreghiamo bene e poi lo passiamo con il pan grattato vedete perché il pan grattato ci darà quel gusto di cotto e quel gusto di croccante quel gusto di dolci di una volta che sarà una meraviglia una riuscita perfetta ricordate di non usare la farina ma bensì il pan grattato come si faceva nei tempi antichi questo è un trucco di cucina classica dal vostro diego moletto chef un bacione a tutti un abbraccio ciao